E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, in questo video qua siamo su Brawl Stars e come avete letto dal titolo e visto la miniatura volevo farvi vedere come andare a completare una missione speciale e qual è questa missione speciale perché veramente vi darà ben mille gettoni, quindi vi frutterà tantissimi gettoni avete solamente un requisito che è questo blocco qua che vedete nella mia lobby che ho sbloccato oggi e appunto è Griff, Griff si poteva avere in due modi perché prima c'è stata una sfida dove dovevate fare 15 vittorie dove avevate 3 sconfitte disponibili perché alla quarta eravate fuori oppure avevate 2 sconfitte disponibili perché alla terza eravate fuori e questo qua non me lo ricordo o se no appunto come me dove potete andare a trovare nelle casse quindi vi consiglio di andare a rapire le più casse possibili perché questo blocco qua oltre a poterci fare un sacco di coppie potrete anche farci ben mille gettoni scrivimi nei commenti se lo avete già trovato, se sì, se lo avete trovato con le casse o grazie alla sfida che era disponibile prima io quella sfida là non l'ho giocata e l'ho trovato oggi nelle casse dopo pochissimi giorni che era uscito la sfida è questa qua, basta che andate sul Brawl Pass perché cliccare su missioni il video avrebbe apparito dopo che l'avete sbloccato come brawler missione speciale, termina tra 29 giorni, vinci 15 partite con Griff a me appare 29 giorni e poi non so voi quando vedrete il video quanti giorni vi appaiono quindi questa qua è la missione, dovete solamente fare 15 vittorie 15 vittorie ad esempio le supervivenze sono in top 4 se siete in solo in top 2 se siete in duo o se no nelle altre modalità TV3 dovete proprio vincere quindi questo è tutto io adesso completerò la missione poi dopo vi farò vedere appunto il risultato della missione completata ovviamente la missione qua vi da mille ma se lo fate in una modalità ad esempio vi da 250 come ad esempio qua mi pare giocare 5 scontri in una squadra quindi lo fate con un amico oppure vinci 5 battaglie a raffa gemme causa 100.000 danni in drapina o qualsiasi altra missione in modalità potrà fare due livelli interi che adesso mi da 600 sopra il livello 40 se no se state sotto il livello 40 e appunto solamente quella missione là vi darà due livelli o se no se state proprio all'inizio del pass vi darà molti più livelli vabbè allora ci vediamo con la missione completata a tra pochissimo eccoci qua ho finito la missione vinci 15 battaglie che appunto mi da 1000 gettoni sono praticamente al grado 10 manco una sola coppa mettiamo esci ecco qua vabbè le coppe e poi 1060 e appunto gettoni più poi ne abbiamo fatti altri 100 per sopravvivenza in solo e altri 100 per sopravvivenza in due le vittorie ho fatto 139 coppe oggi facendo questa missione qua intanto volevo andare ad aprire con voi questa mega cassa anche se non credo di trovare niente dato che avevo appena trovato griff appunto quindi 292 monete e 167 punti energia per griff non gli do i punti energia che c'è qua c'è un botto saranno quasi 2000 punti energia ma non glieli do me li tengo perché tanto così li andrò a trovare indirettamente nelle casse andiamo a migliorare griff che già era fortissimo già anche a livello 1 adesso abbiamo griff a livello 4 questo è tutto allora se video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video passate per i link in descrizione andate a me a seguire su tutti i miei altri social se vi interessa donarmi donatevi sotto tutti i vantaggi grazie mille a chi lo farà e poi in fondo alle descrizioni ci saranno le mie due canzoni che ho fatto una che ho fatto l'anno scorso e una che ho fatto di recente neanche una settimana fa vabbè da me è tutto ci vediamo al prossimo video e bella